Fai ben fai! Fai ben fai! Fai ben fai! Forti emozioni e lacrime hanno caratterizzato la 59esima edizione della Maratona Capri Napoli. Le lacrime sono quelle del ventenne napoletano Giuseppe Ilario, sconfitto all'ultima bracciata dopo oltre 6 ore e 36 km di distanza. Sarebbe stato il terzo napoletano a vincere la Maratona del Golfo. 5-6 km alla fine. Non dico che credevo di non finirla, ma ero esausto. Ho iniziato a cercare di risparmiarmi le energie. E niente. Il trionfo al fotofinisce del romano Alessio Occhipinti, 28 anni, ha la terza vittoria in 4 anni. Entrambi i nuotatori sono delle fiamme oro. Il mare abbiamo trovato abbastanza calmo, il meteo era dalla nostra oggi rispetto a due anni fa. E quindi è andato tutto molto bene. Tra le donne, seconda vittoria consecutiva per l'argentina Maite Pucca, che ha finito in meno di 7 ore il percorso. Presenti al traguardo, il presidente del circolo Canottieri, Giancarlo Bracale, e l'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Mi sono emozionato, ho avuto anche le lacrime agli occhi, perché vedere questo arrivo, vedere questo sforzo in mane che hanno fatto questi ragazzi, come si può rimanere insensibili di fronte a uno spettacolo del genere? Sicuramente questa è una delle nostre gare più importanti, sul cui Napoli punta anche in vista della capitale dello sport, perché è proprio una caratteristica di Napoli, storica. E qui si vede veramente lo sport, la natura, la bellezza di Napoli, quindi siamo tutti qui davvero a sperare che ci siano sempre regate come questa.